Benvenuti alla nostra rubrica leggere liberi. Proprio in questi giorni, qui, tra questi volumi, ho ritrovato un libro che avevo un po' perso di vista. Mi sono detto è proprio questo il momento di tirarlo fuori. Tirarlo fuori per dare il nostro piccolo, minuscolo, direi, contributo a uno tra i più grandi artisti che ha attraversato la scena italiana in questi ultimi decenni. Battiato, io, chi sono? È il risultato di una lunga e affettuosa conversazione con Daniele Bossari al quale il maestro ha accordato la sua amicizia e la sua fiducia, con il quale ha dialogato e riflettuto su mille temi diversi collegati da un unico fil rouge, l'assoluta necessità di un cammino di spiritualità e di meditazione. Non è una biografia, è una serie di conversazioni su idee che vale la pena di meditare, risposte a domande che derivano dalla necessità di misurarsi con la realtà. Un percorso esauriente su temi profondi, religione, esoterismo, arte, eros, politica, tecnologia. Dalla musica delle sfere alla televisione, dall'inconscio al silicio. Questa è una storia su un uomo dalle migliaia di storie. Battiato ricorda come tutto ha avuto inizio nella sua vita, nel suo percorso meditativo. All'inizio degli anni 70 ho sentito la necessità di coprire le immense lacune che avevo. Una volta presa la maturità avevo già dimenticato tutto quello che avevo studiato perché non era una conoscenza reale. Quindi ho sentito la necessità di mettermi a leggere seriamente letteratura mitteleuropea, saggistica e anche sfide inutili tipo Lacan. Mi piacevano le arditezze mentali, sentivo che tutto serviva alla mia crescita, anche le cose che apparentemente erano lontane dal mio mondo. Però è chiaro che a un certo punto ho un po' abbandonato questa furia onnivora per passare alla mistica, la mia grande passione. Bossa richiede spiegazioni su alcuni versi delle sue canzoni, qui ad esempio una tra le più belle e conosciute. Nella canzone E ti vengo a cercare del 1988 dici cercare l'uno al di sopra del bene e del male, ma si riesce a trovare questo motore immobile che anima l'universo? Dovrebbe essere il luogo per eccellenza, risponde Battiato. Ma se quindi è l'assenza del luogo, io perdo i miei riferimenti e questo che non riesco ad accettare. Ho paura, ribadisce Bossari. Siamo all'interno di un corpo di cui accettiamo tutte le schiavitù possibili perché è sempre meglio dell'ignoto. Abbiamo paura perché non sappiamo dove si va a finire. Non è forse questo che abbiamo dimenticato, le immense possibilità dell'essere? E che cosa sia la gioia fuori dal nostro corpo? I temi a prima vista lontani tra loro si intersecano naturalmente. Routine, alienazione dell'uomo, le banche nell'economia mondiale, droghe, stati di allucinazione, alterati di coscienza, la Chiesa Cattolica come istituzione e la vera spiritualità. La Chiesa Cattolica in questo momento, come è stato in quasi tutti i secoli, rappresenta il potere temporale, non quello spirituale. È uno simuro vivente. A Palermo ho conosciuto un prete che mi ha portato nella sua comunità. Quest'uomo mi ha toccato in maniera profonda. Danno vitto e alloggio a 900 extracomunitari, lavorano da matti tutto il giorno e dalla Chiesa non hanno niente. Però ci dicono di vivere in povertà. Sono stati in molti conventi di clausure, ho incontrato monaci e monache di gran livello. Non si può condannare il Cattolicesimo, è solo una parte che non c'entra niente con la spiritualità. Quindi, come vedete, è un libro ricco di temi, di emozioni, di temi trattati con profondità dal maestro Battiato e da Daniele Bossari. Quindi, buona lettura, grazie anche questa volta e ci vediamo la prossima settimana e mi raccomando, non mancate di venirci a trovare sul nostro sito web e sui nostri canali social. Grazie. 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 Grazie.